Allora come state? Come stiamo? Guardate è veramente difficile per me raccontarvi che cosa sta succedendo Ho riflettuto tutto questo tempo, tante ore, tutto il pomeriggio, metà pomeriggio, metà giornata, tutta la mattinata Su che cosa dirvi, quando parlare e in base a che cosa, se aspettare, se non aspettare, che cosa dirvi Insomma, alla fine mi sono reso conto che si è arrivati comunque ad un punto preciso Ed è per questo che vi faccio il video, perché fare un video ogni volta che si muove qualcosa in questa situazione assurda Mi porterebbe praticamente a farne uno ogni dieci minuti, vabbè, almeno due all'ora Ma non avreste mai chiara la situazione quale, quindi vorrei cercare con questo video di chiarire la situazione Cristiano Ronaldo alla Juventus Per quello a cui si è arrivati adesso, che dovrebbe essere la versione definitiva di oggi Cioè non dovrebbe succedere nient'altro oggi Oggi, 5 luglio, non dovrebbe esserci alcun annuncio ufficiale Nella Juventus, nel Real Madrid dovrebbero annunciare, annuncerebbero, annunceranno, pare che sia così Quindi nulla circa Cristiano Ronaldo Il punto è proprio questo, Cristiano Ronaldo è ancora formalmente un giocatore del Real Madrid Anche se c'è stata la rottura, come ha raccontato Marca rispetto al meeting che c'è stato ieri Tra Florentino Perez, presidente del Real Madrid E Jorge Mendes, rappresentante e procuratore di Cristiano Ronaldo Anche se sul sito ufficiale del Real Madrid e sugli account social ci sono le foto Con i giocatori che presentano la nuova maglia Ma Cristiano Ronaldo non c'è E sul sito non c'è nessuna foto di Cristiano Ronaldo È venuto fuori tramite Sky Sport che questa circostanza diriva dal fatto che le foto sono state scattate a fine aprile E Ronaldo, per motivi personali, in quella sede non c'era Motivi personali che potrebbero riagganciarsi alla ricostruzione che vi ho fornito ieri Circa il fatto che questa operazione ha radici profonde Che anche Allegri sapeva tutto già da diverse settimane O quantomeno potrebbe semplicemente significare che Cristiano Ronaldo sapeva Che avrebbe lasciato il Real Madrid alla fine della scorsa stagione Della stagione che è appena finita Nonostante questo però è ancora un giocatore del Real Madrid Quindi non si può andare a prenderlo Non si può trattare per il suo acquisto Per una questione di rispetto, per una questione di professionalità Per una questione ben comprensibile Anche giuridica Quindi si aspetta che ci sia l'ufficializzazione della separazione Tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo O meglio, mettere nero su bianco l'intenzione di separarsi Che per il momento è stata soltanto manifestata È stata soltanto espressa da entrambe le parti Ma evidentemente non c'è nulla di definitivo sulla carta Diciamo così Dopo che sarà ufficializzato tutto E potrebbe accadere domani La Juventus potrà presentare la sua offerta ufficiale Al Real Madrid per Cristiano Ronaldo Alla cifra di 100 milioni di euro Come da accordo tra gentiluomini Che è stato siglato tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo Già da mesi Cristiano Ronaldo aveva detto Resto, faccio quest'ultima stagione Ma poi mi fai andare via a 100 milioni E decido io quindi dove Cristiano Ronaldo ha scelto la Juventus Questo ormai è chiaro Lo sappiamo È trapelato E da parte di molti è già fatta Anche perché Anche perché non è una cosa che si fa in poche ore Guardate faccio fatica a parlarvi Credetemi Faccio fatica perché mi manca l'aria Non è una cosa che si fa in poche ore È una cosa che se si fa è già stata fatta Allora voi mi dite perché non è stato ufficializzato Per questo motivo qui Perché serve nero su bianco E serve il bianco nero Serve mettere nero su bianco E ci sono dei passaggi da rispettare Dopodiché sarà anche ufficializzabile La cosa da parte della Juventus Ho seguito tutte le fonti possibili Oggi ho guardato su Sky Ho guardato anche Top Calcio Per ascoltare Monblano Monblano ha detto sostanzialmente Che qualcuno ormai della dirigenza Si è lasciato andare Lasciando trapelare ormai l'ovvietà La certezza della cosa Come se l'affare fosse fatto Ha scritto oggi Monblano su Juventibus Che notizia da lui riportata Verificata Tutti i membri dello staff Della sicurezza della continassa E quindi della Juventus Delle sedie della Juventus Sono stati allertati Di essere massimamente disponibili Per tutto il weekend Forse già a partire da domani Da venerdì 24 ore su 24 Sempre reperibili Sta per succedere qualcosa di grosso Lì evidentemente Si parla insistentemente di questo 7-7 7 luglio Sabato Mancano 48 ore Come può reggere questa situazione Ancora per 48 ore Senza un annuncio ufficiale Nonostante ciò potrebbe essere così Potrebbe dover reggere per altre 48 ore Luigi Fontana di Spazio J Per esempio Su Twitter ha scritto E sempre Ci sono sempre più conferme Sul fatto che l'affare sia fatto Antonio Barillà ha detto È prossimo un meeting a Madrid Cristiano Ronaldo ha un solo passo Dalla Juventus Romeo Agresti ha detto La Juventus è pronta A presentare la sua offerta Per Cristiano Ronaldo Fabrizio Romano di Sky Sport Ha parlato di sempre maggiore ottimismo Che trapela E poi Gianluca Di Marzio Bersagliato da critiche sui social Ingenerose Solo perché su questa circostanza Su questo affare Non ha avuto granché di fresco Di aggiornato Da riportare Da riportare Ha però detto Che sulla storia Della dirigenza della Juventus A Madrid Oggi Non c'è nulla di vero Non sono previsti voli Né in serata Né sono stati oggi A Madrid Marotte e Paratici Si sono mossi In realtà Tra Torino e Milano Possibile però Che ci vadano domani Perché devono andare a Madrid? Perché l'offerta È già stata presentata Ufficiosamente Ed è già stata accettata Perché non la deve accettare Florentino Perez La deve accettare Cristiano Ronaldo Sostanzialmente Perché è lui che decide Ma dovrà essere evidentemente Formalizzata Anche per un fatto Appunto formale Presentandosi Tutti lì A Madrid Perché ovviamente Non vai a fare L'affare del secolo Senza neanche Stringerti la mano La situazione quindi è questa Io ho deciso di farvi Questo video Mettendoci la faccia E dicendovi Cristiano Ronaldo Sarà un nuovo giocatore Della Juventus Al 99% Ma per oggi Non ne avremo L'ufficialità Potrebbe ancora Succedere di tutto Per quello che ne so io Può essere successo Di tutto Mentre sto registrando Però Io ve lo metto online Insomma È questa La situazione Ad oggi Al 5 luglio È questa qui Veramente incredibile Ho passato Buona parte del pomeriggio In preda A scoppi di risate Isteriche Incontrollabili Con le lacrime agli occhi Voglio raccontarvelo Veramente in maniera esplicita E non so come andrà Non so che cosa Mi succederà Se sarà ufficializzato Ma a questo punto Devo dire Quando Mancano veramente ore Non so dirvi Non so dirvi quante Però a questo punto Non è più un fatto Di crederci A questo punto È un fatto Di aspettare Dobbiamo soltanto Aspettare Ci vediamo quindi prestissimo Mettete like al video Se vi è piaciuto Non dimenticate Di iscrivervi al canale Se non l'avete già fatto E se vi interessano I miei contenuti Attivate la campanella Per ricevere le notifiche Attivate perdete I miei prossimi video Lasciatemi i vostri commenti Che sto leggendo Anche con molto divertimento Per quello che mi scrivete In queste ore terribili In descrizione ci sono i link Per seguirmi sui social Instagram, Twitter Facebook e Telegram Veramente a prestissimo ragazzi E sempre Forza Juve